ben ritrovati amici di calciomercato.com oggi per parlare di paolo lopez perché la roma deve risolvere la questione del suo portiere sta puntando adesso su mirante paolo lopez è stato un acquisto oneroso un anno e mezzo fa fin qui però molto deluso in giallo rosso ecco perché il club lo ritiene sul mercato anche in vista di gennaio può lasciare la roma a fronte di una buona offerta si cercheranno le soluzioni per cambiare tra i palli con mirante che offre garanzie per il presente non ancora per il futuro quindi dovesse andare via tra gennaio e la prossima estate paolo lopez roma che andrebbe anche a pensare all'idea di un nuovo investimento su un portiere l'idea di un portiere in questo caso italiano proprio per non sbagliare più gollini dell'atalanta piace da tempo cragna un altro nome sicuramente nel casting roma che ha pensato in passato anche d'alex meretti insomma le opportunità non mancano ma è una roma che nella prossima estate per la prossima stagione dovrà rivedere il reparto portiere perché con paolo lopez al momento il discorso si sta complicando e si va verso la cessione nelle prossime finestre di mercato